un premio offerto da Vascello Club Resort in Calabria il giudice non può essere che Gianni Fulgenzi allora iniziamo con il vincitore di ieri Bull Mastiff a seguire il vincitore di venerdì e di domenica Spitznano doppia tifoseria vediamo qua come non andate alle mani dopo abbracciatevi tutte quante allora vediamo un po' signori un bellissimo applauso per il Bull Mastiff e un altrettanto caloroso applauso per lo Spitznano a lei dove va la mano Bull Mastiff o Spitz? Spitz o Bull Mastiff? Bull Mastiff Bull Mastiff Supreme Best in Show qui al Market Winner viaggio di soggiorno Vascello Club Resort vediamo un po' che Grazie a tutti.